Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del mercoledì dedicata alle aperture. Ieri poi sono riuscito a trovare Bredi che è qui con me. Saluta pure. Ok, bravo. Ieri si è mimetizzato, insomma, in maniera non molto ortodossa perché per mimetizzarsi e fuggire ai gatti randaggi è andato a nascondersi nel reparto animali, cibo per animali, cibo per gatti, in un minimarket. Perché ha fatto questo? Perché ha pensato? Ma figurati se i gatti vengono a cercarmi proprio nel posto meno probabile, ovvero il reparto alimentare per animali, dove c'è il cibo per i gatti. E quindi ho detto, non se lo aspetteranno mai. Il problema è che lo hanno visto, ma non i gatti. i gestori del minimarket e me l'hanno riportato a casa con i vigili urbani, perché pensavano che volesse rubare il mangiare. Ok. Spero che la prossima volta si mimetizzi meglio, insomma, sta imparando piano piano tutte queste strategie di sopravvivenza. Ok, torniamo a noi. Video dell'apertura. Volevo iniziare una serie dedicata per i giocatori che con il nero devono affrontare la Rui Lopez. Giocatori che giocano E4, E5 e magari si trovano contro l'apertura spagnola, detta anche Rui Lopez. Ci sono molti modi per affrontare la Rui Lopez. Io vi farò vedere i più naif, diciamo, le varianti meno praticate, così da poter confondere anche un po' i vostri avversari. Sicuramente farò anche un'infarinatura poi su tutte le altre varianti contro la Rui Lopez. però volevo concentrarmi poi su 3-4 varianti poco ortodosse, poco giocate considerate schifose dai top GM. non sono effettivamente il massimo, però nascondono del veleno. E andiamo a vedere un po' cosa sarà questo. Adesso vi farò vedere una carellata di difese contro la Rui Lopez. Prima cosa, bisogna capire cos'è la Rui Lopez. E4, E5, cavallo F3, attacca il pedone centrale, cavallo C6. Questa è la partita di Re. Il problema è che il bianco potrebbe non giocare la Rui Lopez, ma la partita italiana. vi dovete anche preparare sulla partita italiana, però questo video è dedicato alla Rui Lopez. Vescovo B5. Dico sempre ai novizi di non preoccuparsi dell'eventuale cambio del cavallo. Sta difendendo E5. perché se il bianco ricattura, ovviamente dopo la ricattura col pedone D, il nero gioca a donna D4 e recupera, attacca cavallo e recupera il pedone. Un gioco migliore. Quindi non vi cattureranno mai il pedone D5, ok? In più, il bianco deve dare la coppia di Virgo. Generalmente, al giorno d'oggi si gioca la variante A6 di Fesamorfi. E da lì nascono un po' tutte le varianti principali della Rui Lopez, ok? Ma io volevo farvi vedere qualcosa che porta ad evitare di entrare in varianti troppo teorizzate, Quali sono le alternative ad A6? Le alternative sono, ok, la difesa berlinese, cavallo F6, che ormai è giocata dai top GM, soprattutto per pareggiare con il nero. Abbiamo la vecchia Steinitz, con D6, giocava la Rui Lopez, diciamo, agli inizi del 1900, fino a 800. La difesa a Cossio, cavallo G7, per evitare la doppiatura dei pedoni, e sull'eventuale cambio del cavallo. Poi abbiamo la variante Smislo, il 6. Varianti minori, che poi tratterò nei prossimi video, come la Bird, variante Bird, cavallo di 4. E la difesa bulgara, con A5 al posto di A6. Molto interessante. Poi abbiamo la difesa Mariotti, donna F6, giocata dal grande maestro italiano Sergio Mariotti, più di un'occasione. Lui la giocava in maniera molto aggressiva, questa è un'altra variante che poi andremo a vedere. Ma la variante che volevo fare vedere oggi, è la variante V9 grave. Donna E7. Ok, il motore è da mossa dubbia. Molti preparatori dell'apertura, molti maestri, molti specialisti di mia conoscenza, che sono molto bravi, fanno il preparatore di aperture per i GM, dicono che questa roba qui è una boiata. E io andrei coi piedi di piombo. Prima di fare questa affermazione, sicuramente non è una variante che aspira ad avere un controgioco dinamico, ma vuole creare una difesa statica per poi cercare, eventualmente portando fuori dalle strade battute il bianco, cercare di sorprenderlo in contropiede. Ci sono molte similitudini in questa variante con il Lion System, che è la difesa del Black Lion, leone nero, che deriva a sua volta dalla Philidor. Nella variante Hanam, però, che è tutto un po' diverso. Lo schema è più o meno simile, però abbiamo un cavallo in C6 al posto che in D7, e il pedone D6 che non è ancora stato spinto. La donna messa in E7 sembra un pochino fuori posizione, perché acceca il vescovo. Il punto è che questo vescovo andrà probabilmente in fianchetto. Ma non è detto, perché? Ora, il bianco generalmente continua a rocco corto. E a questo punto è la sottovariante più bizzarra di questa struttura, inventata dal grande maestro rumeno Mikhail Shuba, di cui parleremo poi venerdì nella puntata Jolly, parleremo della scuola rumena, ci sono Shuba e Georgiou, sono stati i più forti grandi maestri della scuola rumena. Shuba era un giocatore eclettico, particolare, giocava per tourne varianti minori, e qui ha trovato una favolosa cavallo di otto. Uno mi potrebbe dire a prima vista, ma che cosa fa il nero? Cioè, retrocede tutti i pezzi, no? Sembra di vedere, non lo so, in azione Ulf Anderson. Tra l'altro Ulf Anderson non la giocava, perché lui non giocava i 4-5, lui giocava la siciliana. Però, questa roba qua è una specie di bunker. Non è facile da andare ad intaccare, ok? Il bianco ha sempre un vantaggio di spazio, ma il nero rigira un po' i pezzi, e cerca sempre di confondere un po' le acque. Perché cavallo di otto? Cavallo di otto ha un'idea. Quella di fare, in un secondo momento, c6, cacciare il vescovo, guadagnare un tempo, poi solidificare con il d6, creando una tipica struttura filitor, sviluppare il cavallo in f6, mettere la donna in c7, e poi decidere se o sviluppare il vescovo in fianchetto, o svilupparlo in e7, arroccare forte. Il vantaggio rispetto al filidor variante Hanam, è che il vescovo non è ostacolato poi dal cavallo in e7, e può uscire. quali sono i contro di questo setup? Che il nero comunque ci mette parecchi tempi ad ottenere uno sviluppo abbastanza armonioso. Non è armonioso lo sviluppo, però piano piano il nero si politica, e per il bianco sarà difficile riuscire a sorprendere. Attacchi diretti, tempeste pedonali, qui non ce ne sono. Il nero ha una posizione solidissima. Andiamo a vedere questa partita di Michael Schuva con i pezzi neri. L'avversario gioca e4, e5, cavallo e3, cavallo c6, vescovo b5, Ruy Lopez. Ok. Donna e7. I grandi maestri di oggi raramente giocano questo impianto, anzi, quasi anche nelle blitz qualche volta mi sembra di averla vista, giocata, se non ero dama mediaro, è una... Qual è lo scopo di Donna e7? Lo scopo è semplicemente quello di difendere il pedone, anche se non esiste la trappola del pedone catturato, però la Donna in e7, in caso di cattura e ricattura, uscita di vescovo è immediato a rocco lungo. Questa è l'idea. La Donna e7 permette una rocco lungo molto veloce. Non so, questa mossa può destabilizzare il vostro avversario, che magari non conosce il piano del nero. ok? Addirittura può pensare che siate dei malizi che giocano mosse un po' a caso, no? Magari pensano che, non lo so, sia una mossa giocata da breve. si diretta. Allora, il bianco continua con la rocco coro, e qui il nero gioca. Ovviamente la variante Shuba, perché sta giocando proprio Mikael Shuba. Gioca la sua variante, la variante che porta il proprio nome. a questo punto il bianco comincia a pensare ma che sta facendo il nero? Sta tornando indietro con tutti i pezzi. Guardate tutti i pezzi del nero. Torno sull'ultima traversa, sull'ottava traversa, tutti. I pedoni sono quasi tutti a casa. E l'unico pezzo che non è nella sua casa di appartenenza è paradossalmente la donna. Cosa che tutti sconsigliano di muovere all'inizio della partita. Ok? Quindi questa variante va contro qualsiasi principio. No? È una variante da manicomio. Ok. Il motore è da più 1,70. Ok. Va bene. Il motore la pensa in un certo modo. Ok? Vede tirare indietro i pezzi e lui dice tutto qui non è capace a giocare. Ok? Io sono un motore. I motori sono sempre giocano sempre dinamico, giocano sempre trovando delle risorse tattiche. Questa roba qui non la considerano. La considerano come una perdita di tempo per quello che danno una valutazione così brutta. Ma io a questa posizione qui è vero che darei vantaggio bianco. Ma non più di 1. 1,0,90, 1, ma non arriverai a 1,70. Perché il nero ha tutte le sue risorse, i suoi assi nella manica. D4 come potete vedere il bianco aggressivo no? Il bianco attacca subito il centro e voi cominciate un po' a spaventarvi e dite ma adesso il bianco ha vantaggio di spazio. Il centro due pezzi sviluppati il re arroccato e io sono ancora tutto fermo. Non importa. C6 intanto il viscovo deve andare via. Può andare in A4 può andare in C4 ma cambia tutto. C4 è migliore perché gioca sul punto f7. Vescovo C4 D6 ecco qua costruita la struttura pedonale della filidor. Improvvisamente il vescovo delle case chiare ha un un pertugio per uscire il cavallo paradossalmente avrebbe la casa E6 per ricollocarsi il cavallo può essere sviluppato in poco tempo il nero dietro questa barriera questo filo spinato del nero creerà il suo sviluppo qui bianco gioca a B3 perché gioca a B3 gioca a B3 perché vuole giocare il vescovo in fianchetto siccome non c'è nulla da inchiodare il cavallo vuole giocare in fianchetto per attaccare E5 con tre pezzi pedone cavallo ed escovo il pedone non è facilmente difendibile perché il cavallo non può andare in D7 il suo cavallo non può partecipare alla difesa e quindi bisogna stare molto attenti come cosa si inventa Shuba? Cavallo in F6 intanto attacca un pedone se il bianco si azzarda a giocare il vescovo il pedone cavallo D7 e torniamo nel sistema Hannam con la differenza che questo cavallo è indirotto e la zona in E7 però attenzione è molto solido T1 prima il bianco dipende il pedone 4 a questo punto il nero gioca a C7 donna C7 è tematica in questa variante perché aiuta ad uscire il vescovo delle case scure si mette in C7 è una casa dalla quale controlla i5 ok come nella Philidor come in certe varianti anche della Pierce qui il nero deve mettere donna in C7 non può lasciarla troppo in E7 perché imbroglia ok ora tutti i pezzi del nero teoricamente possono giocare dovete solo ottenere il punto E5 e arrocare in fretta vescovo bianchetto ora il punto E5 è minacciato tre volte e noi lo difendiamo abbiamo due difese quella del pedone e quella della donna ora è forzata cavallo D7 e infatti guardate come sono collocati i pezzi del nero qualunque istruttore vi prenderebbe a a pizza in faccia non lo so a badilass perché la roba va contro tutti i principi dello sviluppo è un paradosso però tiene guardate la valutazione del motore era più 1 e 70 adesso dice più 1 più 0 e 90 perché si è accorto che il nero alla fine non subisce tutto questo attacco il bianco ha solo vantaggio di spazio e qui il suo avversario si lancia sul cavallo in H5 perché vuole entrare donna e conquistare la casa F5 col cavallo attenzione qui non dovete assolutamente far entrare il cavallo in F5 altrimenti è un disastro non giocare G6 in questo caso qui quando vedete il cavallo in H4 è un G6 come in tutte le Roy Lopez in realtà G6 giocata quindi il vescovo si appresta ad andare in fianchetto e a reggere ulteriormente con ben 4 pezzi il pedone 5 G3 perché ha fatto G3 e il bianco vuole confutare l'impianto del nero vuole arrivare a fare addirittura G4 F4 scusate F4 creando un inizio di tempesta pedonale ma è una tempesta pedonale che non avrà mai un inizio in realtà ecco qua Shuba sorprende tutti e posso rimettere il vescovo in fianchetto lo mette in E7 perché ha visto che con G3 il cavallo è impicciato e se riuscisse a cambiarlo doppierebbe due pedoni bruttissimi sulla latire ora il bianco deve ritirare il cavallo cavallo G3 l'idea è sempre quella di fare F4 ok sembra minaccioso il bianco però qui Shuba vi fa vedere come il nero il nero se ne esce intanto questo cavallo da F6 arriva quindi in B6 minaccia di catturare la coppia di vescovo e di doppiare due due pedoni al centro ok in più questa mossa libera il vescovo delle case chiare il bianco deve cercare di salvare la coppia di vescovo invece no sviluppa un pezzo in caso mai di cattura di cavallo per creare sempre più pressioni guardate il bianco gioca al dinamico il bianco gioca con i pezzi il nero non si scompone arrocco corto non prende il vescovo perché non vuole dare troppa attività ai pezzi bianco ok arrocco corto adesso è il nero che si prepara a fare F5 naturalmente dopo verso il torre oppure proporre il cambio con vescovo E6 vediamo un po' toglie il vescovo il bianco cavallo E6 perché sciubba gioca il cavallo in E6 beh semplicemente va a minacciare un pedazio il bianco non può neanche fare di 5 perché cattura 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 di cavallo che ottiene una buona attività di pezzi si sembra mal collocato però questo cavallo tiene anche la casa F4 non nel caso il il bianco decidesse di giocare no il bianco ricollo per il cavallo per continuare un po' di pressione su 5 3 attacchi contro 2 difese perché ora il cavallo non è più in D7 a difendere il punto di 5 vedete come i grandi maestri non solo giocano sulle debolezze giocano anche sui pedoni deboli questo non è un pedone debole però è un pedone attaccato quindi moltiplicano gli attacchi di questi pedoni poi l'avversario si difende tornano indietro appena l'avversario si ricolloca tornano subito in modo a far pressione ok bene ora qui il nero ha un problema che fa torna indietro sul cavallo ma no potrebbe giocare il cambio no perché dopo cambio il cavallo è molto attivo e se cambiate ancora prende col vescovo scusate prende col vescovo e dopo questa diagonale diventa mostruosa quindi secondo me vescovo in F7 è molto forte va di nuovo a blindare la casa del fianchetto perché comunque il nero non è che possa lasciare un fianchetto senza il paro con una sacristia senza il paro anche perché il nero potrebbe il bianco potrebbe cambiare direzione e rimettere il vescovo da questo lato infatti gioca a vescovo cattura è questo considerato un errore già il gioco adesso è equilibratio come ricattura qua ovviamente di pedone puoi dare questo forte vescovo ricattura di pedone e adesso si è aperta anche la colonna in faccia alla donna quindi ha pantone per nigotti di orto potrebbe essere un tema i pezzi del nero controllano tutte le case chiare il cavallo controlla f4 controlla d4 vescovo e pedone controllano tutte le case scure tutte le case scure questo cavallo sembra quello un pochino più impicciato mal collocato però potrebbe avere una funzione anche lui naturalmente il nero potrebbe tentare un c5 c4 vediamo cosa ok cavallo e3 il bianco migliora i pezzi la configurazione del suo settato ok vescovo in g7 tipica manovra per lasciare la possibilità della spinta f5 spinta di rottura per ora non è ancora possibile ovvero è possibile ma non è ancora il momento l'ideale sarebbe lasciare lo spazio al vescovo per controllare f5 c'è cavallo in e6 che c a4 guardate il bianco vuole scacciare questo cavallo vuole guadagnare spazio vuole guadagnare spazio qui a5 generalmente tematica quando c'è questo attacco su un cavallo i cavalli in b6 e in g6 ad esempio vengono spesso attaccati dai pedoni in h e a a5 stoppa subito l'idea cavallo g4 cavallo g4 interessante aumenta la passione il pedone e5 ora per difenderlo potrebbe tornare dietro il cavallo ma non mi piace perché oscura un po' il vescovo e poi il cavallo rimane troppo passivo f6 sembra una risorsa molto difensiva perché questa variante contro la ruilope in realtà è un bunker voi dovete fare finta di essere dentro un bunker e resistere resistere all'assalto ok f6 guardate questa sembra più una trincea piena di filo spinale e il bianco sta cominciando a dire ma cosa faccio adesso dove metto i pedoni tutte le case sono controllate forse è tornato sull'idea di fare f4 ecco qua torone pernigotti va sulla colonna aperta perché ora il nero non vuole più fare f5 per indebolire cronicamente e5 viene tutto solidificato il torone pernigotti sulla colonna f non serve molto ma sulla colonna dis perché si mette raggi sulla donna il problema per ora del nero è questo vescovo ma non c'è problema non è così drammatica la cosa allora donna f3 donna f3 va a minacciare il punto f6 che si fa ora che si fa si torna dietro col trone pernigotti non lo so non credo donna e7 possibile donna f7 possibile vediamo cosa fa il nero donna f7 donna f7 difende il pedone ok solidifica tutto e la minaccia di vescovo c4 in realtà non c'è mai perché finché questo cavallo è collocato in d6 ok il bianco potrebbe giocare cavallo c4 per forzare il cambio ma il nero non cambia non cambia però adesso non cambia fino a un certo punto perché il cavallo è sospita cavallo c4 potrebbe essere interessante infatti qui è probabile che il nero se non cambia deve ricollocare il cavallo in d7 per andare in c5 vediamo un po' no vale suba il giocatore brillante lascia il cavallo in presa guadagna un tempo attacca la donna interessante e anche il vescovo adesso non so perché improvvisamente i pezzi del nero giocano quelli del bianco questo vescovo sembra un grosso pedone questo in fianchetto picchia contro qui lo spinato quindi tutto sommato il nero sta comodo ok sposta la donna ora cambia il cavallo ovviamente era in presa metterlo in d7 non si poteva perché il cavallo d7 si rischiava qualcosa di strano semplicemente acceccava questo vescovo cavallo passivo chiudeva anche il torno per i grotti tanto male cambiare questo cavallo e poi piazzare il vescovo in d6 e cambiare anche i vescovi cavallo per vescovo per vescovo e d6 ok bianco cambia anche i vescovi qui riprenderà di cavallo o di donna io ricatturerei di cavallo per avere di nuovo un controllo su f4 e soprattutto sulla casa d4 tanto la donna qui è formidabile per cui tiene anche eventualmente la debolezza in b7 è possibile anche prendere di donna perché ricatturare vediamo cosa fa Schuva lui prende di donna lui prende di donna vuole attivare i pezzi pesanti questo cavallo comunque è traballante ma ne ero la posizione è comoda visto che il vescovo non faceva più nulla contro quello spinato il bianco decide di ricollocarlo in un'altra diagonale queste cose qui anche voi novizi dovete cercare di capirle i pezzi non si muovono mai a caso eh ma ha messo il vescovo in fianchetta adesso lo toglie lo toglie perché non ha più una funzione in fianchetta invece su questa diagonale si eventualmente cambiare il cavallo e doppiare questi pezzi oppure appoggiare la spinta più forte e qui mossa che sembra favolosa fantastica sembra brillante ma non è granché nel senso sacrifica un pezzi oh il nero ha lasciato il cavallo in presa ma no dopo c'è il doppio forchettone ecco 5 ok interessante bianco cattura f5 forchettone deve spostare la donna donna va in e3 si piazza su casa scura per controllare magari f5 o entrare in b6 perché c'è questo pedone molto debole deve riprendere il pezzo il nero e adesso torna in fianchetto perchè adesso non c'è più il filo spinato il pedone e5 è fragile qui bisogna giocare un po' passivi però il nero è solito alza il torone per i gorpi difende il pedone con 3 pezzi se il bianco fa c4 semplicemente toglie il torone e la cattura di questo pedone è velenosa perchè poi potrebbe seguire il raddoppio dei toroni e anche la triplicazione dei toroni e questo vescovo non avrebbe un po' inchiodato messo male il nero dovrebbe recuperare il pedone verso c4 torre di 7 e il bianco si avventa sul pedone dice oh ho guadagnato un pedone e te e la tua variante di 9 grad che fa schifo ci va mette il torone per i gorpi sulla sulla colonna e pressione su questo vescovo ok ora cambia il vescovo chiaramente cosa può fare cambio 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 questo pedone rimane debole isolato ok questo torrone è passivo questo è attivo se cambiano tutti i pezzi questo torrone qua è nettamente più forte di questo torrone questo è anche per farvi capire come passare dall'apertura al centro partita al finale bianco cattura il vescovo donna per torre per torre per pedone per re per ok pedone in pari nero è un pedone doppiato al bianco è un pedone isolato pedone debole su colonna aperta è un altro pedone debole su colonna chiuta quindi due debolezze strutturali del bianco che ha tre isole pedonali il nero ha due isole pedonali quindi sta meglio il nero mobilità dei pezzi torrone per negotti mostruoso su questa colonna incontrastato questo torrone che non fa niente e in più il re nero può arrivare facilmente in e4 mentre il re bianco è limitato perché non può entrare sulle case chiare c'è questo pedonato provo ad attivare il torrone per negotti qui è un finale perso bianco è un finale perso perché fa c5 prima? c5 serve per non dare la possibilità al bianco di creare un contro gioco blocca le debolezze blocca la debolezza blocca la debolezza e si rifà su questa debolezza ok? una volta che il torrone per negotti arriva in d3 di traversino minaccia due debolezze il re arriverà in e4 stoppa il pedone quando il re e il torrone per negotti difenderanno questo pedone il nero si porta questo torrone per negotti deve provare ad attivarlo anche di traversino qualcosa inizia la marcia del re perché subito il re e non torrone per negotti? perché probabilmente credo sia buona anche mettere il torrone per negotti no? comunque attacchi due pedone proviamoci a è peggio adesso da gioco pari perché? ah probabilmente avvicinare al peru sembra la stessa linea sembra la stessa linea quella dice il motore qua re f2 f6 re2 re7 re2 re2 ah ecco perché perché il re arriva in e2 questo torrone deve lasciare il traversino il re è troppo lontano per andare a difendere il torrone per negotti quindi sciuba giustamente avanza prima il re il bianco crede di fare la stessa cosa ma non è così il re vuole andare in e4 e lui eccolo ora c'è una opposizione favorevole al nero perché il nero se il re bianco si dovesse allontanare o in f2 o in d2 entra o in f3 o in e4 mentre quello del bianco non può mai entrare in e3 ok ora il piano del bianco qual è? quello di ricollocare il torrone per negotti per andare a minare questo traversino perché chiaramente per progredire il neo deve alzare il torrone per negotti ma chiaramente adesso è arrivato questo pedone cade con scacco questo praticamente condannato il bianco prova a riparsi sui due pedoni in basso però ormai non c'è più storia scacco bella questa intermedia perché impedisce il torrone di scendere e mantiene il torrone sul traversino cacco chiaramente il bianco dice io entro lo stesso però il nero guadagna spazio con il re ok il bianco pensa di pattare questo finale di torri dicono che i finali di torri sono tutti pattini non sono i re messi in questo modo fuori partito un altro pedone e difende b7 parte il pedone h ma a questo punto parte anche il pedone c ok il nero si pappa tutti i pedoni bianco pensa di ricatturare questo con scacco e poi questo e farsi due pedoni passati ma il nero è avanti molto avanti scacco ecco queste sono le mosse che dovete anche imparare no la minaccia è quella della cattura ok chiaramente se andate con re subito in b4 per catturare il pedone lui cattura con scacco dovete crearvi un ponte con il trone per negocchi per andare per andare a difendere ok intermedia scacco spostare e ora difende tutto ora difende tutto e il bianco cosa fa? proverà ad attaccare questo non vedo a no attacca b7 ma ecco qui il pedone b7 viene lasciato al suo destino perché il nero vuole andarsi a catturare anche il pedone h e poi anche il pedone c per avere un pedone passato sul lato di re e due contro uno sul lato di donna qui probabilmente sarebbe stato meglio subito catturare il pedone bianco prova a centralizzare il re ma qui ormai fa potare perché il nero intanto salva il pedone siamo sempre lì e prova ad attaccare tutte le debolezze ma al bianco mancano dei tempi vedete che il torrone del nero è un ascensore che va a salvare tutti i pedoni ritorna attaccando il re questa volta il re esce pure perché se cattura non è più il scacco e questo pedone è passato e il re è sempre in balia degli scacchi dei torroni per il torno cattura spinge prova ad annaspare scacco scacco di torrone e qui il bianco ha abbandonato valutazione di questa variante di questo impianto per il nero allora pro e contro chiaramente ci sono i pro e i contro i detrattori di questa variante quelli che la considerano una porcata asseriscono che il bianco ha troppo vantaggio di spazio ha troppo vantaggio di sviluppo e la posizione del nero sembra passacciona perché i pezzi vengono collocati in maniera come dire non non standard Taras si sarebbe messo le mani nei capelli per uno sviluppo del genere ok qui recapituliamo e 4 e 5 qui giocano la Roy Lopez donne 7 qui il bianco potrebbe anche giocare c3 ma su c3 non importa fate sempre lo stesso piano cavallo di 8 e c6 il setup è lo stesso cavallo di 8 il bianco potrebbe anche non giocare d4 potrebbe giocare cavallo c3 d3 non prega niente il piano è sempre quello di giocare c6 d6 cavallo f6 donna c7 e poi decidere se mettere il vescovo in 7 oppure provare un fianchetto il fianchetto è ideale se il bianco decide di mettere il cavallo in h4 ok per impedire di entrare in f c6 guadagnate un tempo sul vescovo e b6 questa struttura vi dovete arrivare a questa struttura della filidor ok cercare di manovrare con i pezzi in modo passivo però alla fine della fiera il nero troverà le case migliori qui ha fatto b3 poteva fare qualsiasi cosa poteva giocare cavallo c3 ok cavallo c3 cavallo c3 cavallo f6 b inchioda e se ne frega dell'inchioda tutto si può addirittura giocare h6 se cambiano potete anche cambiare di drone per i più aggressivi prendere di pedone e attaccare anche sulla colonna g vediamo un po' il motore è d'accordo tra no il motore non è molto è un po' troppo esagerato ok il bianco ha sempre un leggero vantaggio che succede nel caso il bianco volesse bloccare la posizione nessun problema state fermi rischio c4 in realtà di inchiodare questo cavallo minacciata a doppiatura di un pedone ora deve tornare indietro col vesco per impedire l'impedonatura questo non lo dovete mai cambiare perché se no entra col cavallo sono dolori si può anche semplificare volentemente cambiare cambiare toccare le ruine 7 non so ma è solita poi avvocate corte avete molte molte opzioni l'unico problema è saper poi collocare questo cavallo e con d5 chiaramente la casa e6 non è più vostra potete anche blindare il centro con c5 a6 a6 b5 cavallo b7 create una fortezza quasi inespugnabile ok spero che questa variante vi sia piaciuta ora le puntate sull'apertura saranno dedicate a tutte queste varianti minori contro la ruiluppe vedremo anche la variante bird la variante bulgara la variante mariotti ok spero che il video vi sia piaciuto che dire venerdì puntata jolly sulla scuola rumena chiaramente se fate vedere questo impianto ha un istruttore vi dirà subito appena lo vede che è una porcata ma non è esattamente così è giocabile chiaramente è passivo ok però invitate il bianco a schiantarsi contro il vostro reticolare e se il bianco esagera lo prendete in controllo ho giocato diverse volte questa variante anche con discreto successo online e il problema è che oggi giocano tutti l'italiana non ti giocano la la ruiluppe adesso giocano tutti l'italiana e forse vi dovessero giocare la ruiluppe comunque essere preparati anche con varianti diciamo minori le varianti principali sono sempre buone però chiaramente sono iperteorizzate questa insomma è poco conosciuta con questo è tutto un caro saluto ci vediamo venerdì ciao e arrivederci ah mi raccomando iscrivetevi al canale siamo arrivati a 300 abbiamo superato i 300 quindi siamo diventati tutti degli spartani siete diventati degli spartani perché per stare su questo canale bisogna essere spartani essere combattenti e impegnarsi e studiare parecchio e fare fatica e sudore fatica e sudore per andare avanti ok qui non sono video semplicemente del mordi e fuggi guarda che bello questo guarda che bello lato qui qui fa didattica ok un saluto a tutti grazie